Buongiorno a tutti, sono Matteo Paganini, benvenuti a questo appuntamento con l'analisi live del mercato dedicata all'apertura europea. L'evento catalizzatore dell'attenzione di ieri è stato senza dubbio il discorso di Bernanke e le decisioni della Federal Reserve circa i tassi, i tassi chiaramente sono stati lasciati invariati, ma guardando i grafici questa mattina e già da ieri sera, per chi di voi non avesse seguito il dato e si fosse messo sugli screen soltanto ora, si capisce che qualcosa è successo, andando a fare uno screening generale del mercato vediamo che il dollaro è stato fortemente comprato sia contro l'euro, dove ha guadagnato più di una figura, andiamo a vedere anche la reazione sul dollaro yen che è stata molto forte, il dollaro comprato anche sullo yen, comprato pure sulla sterlina che voi potete vedere qui sempre su un grafico orario, aver rotto a ribasso quello che poteva essere una sorta di canale ribassista su cui stavamo ragionando ieri su un grafico a 4 ore, sull'australiano è salito molto bene anche qui il dollaro americano, riuscendo a portarsi verso 0,92 c'è stato un calo molto forte dell'oro che quindi è andato a muoversi secondo le correlazioni che potevamo aspettarci ieri, quindi un dollaro che poteva salire un po' contro tutto e un oro in pressione perché sappiamo che non è un bene rifugio adesso ma si comporta bene o male come una valuta, se andiamo a vedere anche il petrolio abbiamo avuto una buona reazione anche qui con una forte discesa e le borse, standard and poor grafico orario hanno avuto una forte discesa che da 1650 è riuscita a riportare a 1620, qui vedete che a differenza delle solite mattine, delle altre mattine dove parto con un layout completamente pulito dei grafici per tracciare insieme a voi le linee, ho lasciato caricato il layout sul quale abbiamo ragionato ieri nel webinar educativo che abbiamo fatto alle 17, proprio aspettando la Federal Reserve, ragionando su quello che poteva succedere nel momento in cui non ci fosse stato detto nulla di nuovo e questa poteva essere una buona discesa del dollaro americano, di contro di fronte a nuove notizie il dollaro avrebbe potuto salire, il buon Bernanke, fatemelo definire così, visto il fardello che si sta portando sulle spalle dal punto di vista istituzionale e dopo le parole di Obama che hanno fatto capire che probabilmente non ricoprirà più il ruolo di Presidente della Federal Reserve dall'anno prossimo, ieri ci ha dato un orizzonte temporale di riferimento, ha detto che già gli stimoli che sono in atto, per chi non lo sapesse la Federal Reserve sta implementando il quantità di visi in 3 o 4 a seconda di come si contano i vari interventi, ma poco importa, sta di fatto che siamo a 85 miliardi di dollari di acquisti su base mensile tra titoli di Stato e MBS, Market Baked Securities, a 40 miliardi sui titoli di Stato e 45 sui titoli legati all'immobiliare. Bene, nel momento in cui la disoccupazione dovesse scendere al 6,5%, perché è imprescindibile andare a rimuovere questi stimoli senza dare un occhio alla disoccupazione, questi stimoli di 85 miliardi potrebbero cessare totalmente e già verso la fine dell'anno, entro la fine dell'anno si potrebbe andare a limare un po' la quantità di acquisti. Se vi ricordate chi mi segue da un po' di tempo abbiamo ragionato più volte su questa cosa e abbiamo iniziato a pensare che già quando la disoccupazione dovesse scendere intorno al 7,1-7,2%, Bernanke avrebbe potuto iniziare a tarpare un po' le ali di questo quantitative easing, così sembra, quindi ci ha dato un orizzonte temporale entro il quale si potrebbe vedere qualcosa e i mercati sono andati subito a reagire comprando dollari, vendendo borse e facendoci vedere quello che è successo. A dire la verità per essere un po' più precisi, ieri quando si è cominciato a parlare del mercato del lavoro dicendo che si vedevano dei miglioramenti, sono già partiti degli acquisti di dollari, in quanto si aveva l'idea che si poteva in qualche modo arrivare a parlare del quantitative easing e di questa potenziale modifica al ritmo di acquisti e quando c'è stata questa comunicazione il mercato è riuscito a muoversi in maniera molto forte. Tecnicamente parlando oggi siamo in una fase delicata perché lo vedete, anche qua sull'euro ho lasciato segnato proprio i livelli che abbiamo tracciato ieri prima della Federal Reserve, avevamo visto che c'era questo rettangolo di potenziale continuazione che si poteva sfruttare per delle rotture rialziste sopra il 34,30 che è il punto che stiamo seguendo da un po', l'SSI su questo livello era sbilanciato in maniera forte sul lato corto quindi poteva lasciare intendere a delle salite di mercato, invece la notizia della Fed è stata talmente forte da aver portato a questa evoluzione, un'evoluzione che si poteva sfruttare per chi ci ha seguito su eventuali accelerazioni sotto questo punto e approfondimenti che iniziavano dai primi punti di minimo e si poteva arrivare a step all'interno di tutta quest'area che era un'area molto confusa dal punto di vista dei livelli o meglio chiara dal punto di vista tecnico ma difficilmente interpretabile dal punto di vista dell'arrivo finale proprio perché si trattava di livelli sui quali i prezzi hanno rimbalzato, dei livelli dinamici che davano delle indicazioni ma che rendevano difficile capire dove ci si poteva fermare. Attenzione adesso perché stiamo provando a rompere il 32,30 che secondo me è il punto principale, siamo proprio in rottura adesso, c'è la possibilità di valutare delle accelerazioni che possono arrivare anche in area 1,32, 1,31 e 80, sotto 1,31 e 75 il mercato potrebbe in qualche modo provare ad accelerare in maniera forte, stiamo attenti, non entriamo subito su questi tentativi di rottura, l'idea oggi è quella di andare a visionare dei grafici a più piccolo time frame per capire se le rotture possono essere indicative. Sto lavorando su una sorta di filtro da posizionare sui grafici orari utilizzando i grafici a 15 minuti, in certe situazioni vedo che funzionano bene, per esempio qui abbiamo un'indicazione guardando un 15 minuti che potrebbe far continuare eventualmente la discesa perché vedete come i prezzi siano ancora sotto la media mobile a 21 per cui qui si può aspettare giusto qualche punto ed eventualmente provare a entrare perché l'approfondimento effettivamente ci può stare con chiaramente degli stop da mantenere sopra il punto di rottura che adesso sta avvenendo e che ci devono far uscire dal mercato nel momento in cui dovessimo vedere dei giri importanti perché appunto è un segnale proprio di breakout per cercare di cavalcare il movimento che è già in atto ma tecnicamente non è nulla di bellissimo ora come ora, soprattutto sull'euro che si è mosso così tanto. Però questo 32,30 è stato il punto sul quale abbiamo detto, lo usiamolo come supporto nel momento in cui torniamo sotto qui, valutiamo altri scenari e da quando è stato toccato il mercato è rimasto solo sopra, per cui seguiamolo e stiamo attenti a questa potenziale discesa anche se come detto tecnicamente un po' di strada l'ha già fatta e forse cercare qualcos'altro può essere un'idea intelligente. Andando a vedere anche la sterlina c'è stata una forte discesa anche qui sulla Federal Reserve, abbiamo avuto il mercato che è sceso in maniera importante, qui avevamo questo potenziale canale all'interno del quale potevamo stare, ma nulla di significativo dal punto di vista tecnico, è proprio una cosa che faccio solitamente io nel momento in cui traccio una linea dinamica, è di prenderla, copiarla e provare a posizionarla sui punti di minimo per capire eventualmente se ci possono essere dei livelli da seguire. In questo caso il mercato è sceso in maniera forte, soprattutto una volta che ha rotto i punti di supporto statici precedenti, è andato a consolidare sotto questi livelli, livelli che coincidono con una media 21, qui anche qua siamo in una situazione dove vale la pena attendere e cercare di capire se il mercato vuole provare a rompere i minimi oppure vuole provare a correggere verso i punti di media dove eventualmente potremmo vedere delle continuazioni del movimento. Siamo in una situazione tipica dove dobbiamo capire se, ne parlavo questa mattina anche con Davide, se siamo pronti per vedere delle partenze di movimenti di medio periodo o se la reazione che c'è stata sul dollaro americano è pronta a rientrare. Non abbiamo un'idea precisa su questo, crediamo che sostanzialmente il mercato possa in qualche modo non essere ancora pronto per andare a vedere delle vendite strutturali di borsa, credo che gli investitori, visto che il time frame di riferimento comunque si rifà, si riferisce alla fine dell'anno, possano avere ancora della liquidità da poter in qualche modo investire per cercare dei rendimenti, la reazione è stata forte però da qui a aspettarci un euro dollaro a 1,28 secondo me non è ancora il momento. Seguiamolo sui livelli tecnici, qui sul cable come detto seguiamo una rottura ed eventualmente un rimbalzo sui punti di resistenza che sono sia statici che dinamici individuati dalla media A21. Per quanto riguarda eventuali situazioni difensive, vedete che qui una volta che dovessimo tornare sopra l'area di 55,20 il mercato potrebbe in qualche modo provare ad accelerare e ci sono abbastanza punti, si parla di 55,70 a livello statico dove passa anche questa potenziale linea dinamica di resistenza che potrebbero essere raggiunti, quindi buon risk reward nel momento in cui dovessimo trovarci sui punti di resistenza. Guardiamo l'australiano prima del dollaro yen, qui chiaramente la volatilità è stata superiore rispetto a quella vista sull'euro dollaro e sul cable, questione di liquidità proprio di mercato con l'australiano che comunque rimane sotto pressione di suo e è comunque più volatile rispetto agli altri due. Intanto l'euro sta rompendo, vedete, quindi chi ha tradato questo segnale adesso è in territorio positivo, si è visto dall'australiano la rottura dell'euro, vedete, stava andando ad accelerare, l'unica in ritardo è la sterlina, quindi occhio perché la sterlina qua è in ritardo, bisogna vedere se si va a riallineare o se si decorrela, se euro dollaro e australiano adesso approfondiscono e la sterlina nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora non va a seguirli a ribasso, possiamo andare a lasciare perdere la correlazione tra euro e sterlina e andare a seguirli come strumenti a loro stanti. Qui, attenzione, il mio consiglio è per chi ha fatto l'operazione di mettersi subito lo stop in pari, appena possibile, perché il mercato può girare da una parte o dall'altra, c'è il cable fermo, il che non conferma un quadro di correlazione totale, però vale la pena di star lì perché se si entra con la liquidità londinese dopo che comunque questa decisione della Federa è arrivata ieri sera e quindi ha fatto lavorare di notte gli asiatici e non ha dato la possibilità a chi non l'ha seguito di lavorare, si potrebbe spingere il prezzo un po' più giù prima di provare delle correzioni, per cui seguiamolo anche sull'australiano che risulta molto volatile, siamo sullo 0,92 qua e vedete che dobbiamo stringere veramente parecchio il grafico prima di ritrovare questo livello. Questo qua è un grafico orario, non siamo ancora arrivati a vedere un punto interessante, dobbiamo prendere un grafico giornaliero e andare a stringerlo molto per capire su che punti siamo. Qua andiamo a tracciare i livelli principali di attenzione che passavano per 94, vedete che qua sotto intorno a 92, 91 e 90 passano dei punti di attenzione che risultano importanti, sotto questo livello possono esserci i tipici 20-25 punti di eventuale aumento di volatilità per dei falsi breakout, anche qui il consiglio è quello di scendere su time frame più piccoli e vedere se possono esserci delle situazioni interessanti da poter sfruttare, qui siamo impostati ancora a ribasso, quindi dopo eventualmente 91,75 il movimento potrebbe diventare un po' più importante e far partire anche nuovi ordini di vendita che possono far approfondire il mercato. Mi raccomando la difesa anche sull'Australia se si va a tradare questo potenziale breakout con punti di stop sopra i livelli di massimo, qua per valutare delle salite diventa più difficile, dovremmo aspettare il mercato raggiungere quota 0,93, 0,93 e 20, però si tratta di una figura per cui o si aspetta o si cerca di andare a lavorare su diversi time frame, su un 4 ore non cambia tanto rispetto all'orario, abbiamo avuto il mercato che sostanzialmente ha tenuto le resistenze approfondite, quindi potremmo aspettare anche qui dei pull back, mentre su time frame più piccoli l'abbiamo visto, abbiamo delle buone indicazioni tecniche, ma io starei su un orario oggi per avere una migliore gestione del rischio, anche dal punto di vista della direzionalità che oggi, come abbiamo detto, non è chiarissima. Dollar o Yen, allora qui c'era un bellissimo triangolo, poteva essere un triangolo di continuazione, ci abbiamo ragionato ieri, con la possibilità di vedere il dollaro Yen sulle resistenze resistere per eventualmente provare a rompere a ribasso l'area dinamica che ha segnato negli ultimi giorni, diciamo nell'ultima settimana. Questa volta c'è stata la rottura invece a rialzo di questo triangolo che tecnicamente poteva comunque dare delle proiezioni, come abbiamo visto sia a ribasso che a rialzo, ma che questo movimento è stato dettato proprio dalla Federal Reserve, si poteva lavorare molto bene sulla rottura di questo punto statico con una buona tolleranza di prezzo, si poteva aspettare il passaggio ultimo di questi punti, il mercato adesso ha provato a salire, sta pompando anche stamattina sopra la media mobile e qui abbiamo ancora spazio prima di raggiungere i primi livelli di attenzione che passano per 98,50 quindi il mercato potenzialmente potrebbe avere ancora una quarantina di punti di spazio, se andiamo a vedere i time frame più piccoli vedete che bene o male su tutti ci stiamo tenendo sopra la media mobile a 21 periodi, stiamo attenti perché da qui a 98,50 diventa tutta una buona area dove eventualmente valutare una frenata del prezzo, il consiglio è di provare a lavorare sui breakout soltanto sopra questo rivelo se non si è già entrati a mercato e vediamo se qui eventualmente si vanno a formare delle condizioni di vendita con la possibilità di avere un ottimo risk reward per vendere i dollari yen tendenzialmente per correzioni che potrebbero essere importanti anche verso l'area di 97,15 con degli stop e reverse sopra questo punto, facciamo in tempo a seguirlo sul forum. poi l'oro, allora guardiamo il metallo giallo qua, no l'ho tirato via, allora riprendiamolo perché qua la discesa è stata forte, sta approfondendo ancora, stiamo scendendo, allora sull'euro siamo qui, il cable è ancora qua, quindi attenzione al cable, l'australiano sta approfondendo la rottura del 0,92, dollari yen abbiamo detto che ha ancora un po' di spazio per salire e l'oro invece sta scendendo molto forte anche adesso, qui sull'oro siamo arrivati finalmente alla rottura dei punti più importanti che potevano determinare l'operatività, proprio nelle prime ore di questa mattina, sapete che io in questo frangente temporale non sono andato a lavorare molto l'oro in intraday proprio per la sua volatilità, ma stavo aspettando la rottura di livelli che comunque erano lontani, ma che potevano in qualche modo iniziare ad essere dei livelli da curare. Ieri c'è stato proprio l'avvicinamento a questi punti, lo vedete con una prima rottura che è arrivata ai livelli di minimo, un ritest della media a 21 ed ora il mercato che sta approfondendo in maniera forte, ho sentito diverse persone ancora lunghe sull'oro da chi da 1800, chi da 1400 che mi chiedevano una view, io ho credevo si potesse scendere ancora, spero che magari anche qualcuno di voi me l'ha chiesto, spero che eventualmente abbiate chiuso le posizioni perché l'oro sta approfondendo e qui la situazione diventa veramente difficile perché siamo sotto i punti di minimo che sono stati segnati dopo la perdita del 20% che c'è stata ad aprile, il mercato ha provato a correggere, vedete anche su un daily e sulla media a 21 è sempre rimasto sotto, questo sta a significare che la forza del movimento è veramente importante e occhio perché adesso siamo qua su punti che se vengono rotti possono aprire la strada per ulteriori discese e queste discese se andate a ragionare sui punti precedenti vedete che iniziano a partire proprio da tutta l'area che passa sotto il 1300 e tendenzialmente vanno ad estendersi anche sotto 1200, chiaramente qua stiamo parlando di un time frame daily ma con la volatilità che ultimamente l'oro ci ha mostrato va bene andare a iniziare a segnarsi eventualmente anche livelli di arrivo che li vedete li abbiamo riportati anche qui quindi attenzione perché se salta quest'area e teniamoci una tolleranza di un 2 o 3 dollari prima eventualmente di lavorarla si può provare a scendere sotto il 1300 con la pulizia di stop sotto questo livello anche se non credo siano tanti gli stop sotto il 1300 proprio perché era un livello anche abbastanza lontano rispetto ai prezzi che avevamo soltanto fino a ieri quindi sono ordini che si stanno costruendo adesso su time frame più piccoli quindi qua gli intraday che eventualmente stanno iniziando a mettersi lunghi d'oro dovranno andare a ragionare sul posizionare ordini sotto questo livello io credo che vedendo anche l'impostazione di time frame più piccoli possa esserci la possibilità una volta scesi sotto il 1305 di accelerare verso il 1300 ed oltre dopodiché non appena la posizione è a favore stop in pari e lasciamola correre lasciamola correre per vedere eventualmente dove si va il petrolio è sceso molto forte anche lui però tecnicamente mi piace un po' di meno rispetto all'oro anche se siamo su un punto abbastanza interessante che si potrebbe valutare operativamente qui il mercato come spesso accade intorno al 30 dopo le figure tonde va a incontrare qualche supporto o qualche resistenza qui abbiamo avuto una bella salita sempre sopra la media mobile o sopra i punti statici che sono stati toccati in precedenza qui c'è stata una divergenza ribassista che in qualche modo poteva far capire un'eventuale discesa ma come detto l'evento più forte è stato Bernanke che ha abbassato anche qui le materie prime sono scesi i prezzi sotto il 97,30 hanno accelerato e adesso siamo qui sul 96,40 un'area che vedendo un po' come si sta muovendo il mercato può essere considerata per eventualmente degli acquisti di petrolio vediamo se si decorrelano i mercati durante la giornata di oggi ma con un ottimo risk reward perché una rottura potrebbe portare a pensare di girare le posizioni eventualmente a ribasso tanto l'euro è ancora in rottura il dollar yen inizia ad accelerare in quest'area che potrebbe essere di resistenza vediamo se si decorrelano i movimenti dei dollari il cable siamo ancora qui e siamo ancora all'interno della finestra temporale accettabile per valutare una correlazione con l'euro diciamo che abbiamo ancora 5-10 minuti di tempo per capire se può seguire il movimento l'australiano ancora lì in rottura e l'oro è qua che è titubante perfetto andiamo sulle borse allora ieri ragionavamo su su grafici soprattutto giornalieri sullo standard and poor che vedete qua in un grafico candele sul dollar index sul dollar index che vedete qui in azzurro e sul dollar o yen pensando a quello che poteva succedere ieri in serata se andiamo su un grafico orario vediamo che la reazione c'è stata ed è stata interessante perché le borse sono scese come abbiamo visto il dollaro è stato comprato in maniera forte quindi abbiamo avuto una situazione di risk on e di risk off che era quella più probabile dopo che abbiamo visto i mercati che comunque per un po' di tempo si erano mossi con il dollaro che saliva insieme alle borse ieri abbiamo fatto questo webinar proprio per cercare di capire quali potessero essere gli scenari e vedete come qui siamo andati proprio a avere un andamento completamente speculare con il dollaro che è stato talmente forte da essere comprato anche sullo yen quando la situazione di risk on e di risk off non è così delineata così legata a un dato abbiamo visto invece le borse che salivano con un dollaro che riusciva a salire insieme a loro perché il dollaro yen saliva e veniva venduto lo yen per acquistare le borse ieri invece è stata una giornata dove la reazione è stata in questo senso nel senso che abbiamo visto se andiamo a magari prendiamo un S&P dove abbiamo anche i nostri indicatori per renderci conto di come sia stato il movimento abbiamo avuto una bella discesa una volta rotti i supporti che comunque tecnicamente parlando vedete se uno non sapeva che ieri c'era Bernanke e lavorava sulle configurazioni poteva fare degli ottimi deal adesso siamo sul 1620 non ci sono punti particolari da seguire su questo livello per cui siamo in una situazione simile a quella del cable dove dobbiamo seguire l'evoluzione sui minimi ed eventuali ritorni su zone di resistenza che potrebbero in qualche modo aiutare il mercato a scendere ma anche qui non abbiamo fretta operativa abbiamo tempo per valutare l'andamento le borse europee chiaramente all'apertura questa mattina il DAX lavorava anche ieri sera ha già scontato delle discese questa mattina c'è stata un'apertura ribassista siamo ancora impostati a ribasso e ci stiamo avvicinando ai punti di minimo in area 7970 dove eventualmente potremmo valutare delle frenate dei prezzi ma qui dobbiamo soltanto aspettare di vedere se la discesa continua a concretizzarsi una discesa sotto i minimi che sono stati fatti in apertura può portare delle scelte operative per i trader di breve con un risk reward che deve essere controllato soltanto con stop quantitativi sopra i punti di rotura mentre il fuzzi, vedete anche qui discesa importante sui minimi precedenti il mercato si è fermato ma rimaniamo ancora impostati a ribasso un po' come sul DAX possiamo aspettare di vedere se ci avviciniamo a questi livelli e se ci arriva qualche indicazione anche a livello di correlazioni quindi potremmo aspettarci un euro dollaro tornare su con un cable che torna su un australiano che torna su un oro che smette di scendere e il DAX che si ferma sui supporti di fronte a queste correlazioni con delle eventuali indicazioni rialziste si può pensare anche di comprare l'indice italiano con degli stop sotto questi punti ma tenendo conto che se molliamo il 700 c'è la possibilità di scendere tra l'altro vi ricordo che da luglio partirà la Tobin Tax sui derivati sul fuzzi c'è questo dubbio che non si capisce se effettivamente sarà luglio o settembre comunque in soldoni il discorso è che verranno aumentati gli spread su questo strumento perché bisognerà pagare la Tobin Tax che giustamente è stata decisa soltanto sull'indice italiano e sui derivati su quest'indice in maniera molto smart dai nostri capi però fermiamoci qui con i commenti va bene direi che ci siamo andiamo a vedere i vostri commenti adesso io vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento a domani mattina sempre alle 9.30 da Matteo Paganini è tutto buon trading